E' ora la premiazione dei supereroi per i valorosi servizi resi alla città e ai suoi abitanti. Otto è un po' invidioso. Vorrebbe essere anche lui un supereroe. Il progetto del Robo Puffin è perfetto, ma riuscirà a realizzarlo. I supereroi più divertenti sono tornati in azione. E' il giorno della grande sfida. E i Puffins sono pronti. Che vincano i più forti. Quest'anno vieni a scoprire il superpotere dell'amicizia. Raccontato da Lucilla. Ui ui, che basta! Robo Puffin. Dal 13 giugno al cinema. Questo film aderisce alla promozione Cinema Revolution del Ministero della Cultura.